Ecco appunto il controllo aereo anche con un semplice elicottero sopra al Quirinale Ecco, questi abbiamo anche degli accenti evidentemente in borghese Ed ecco tra poco, ecco anche delle persone, vedete, dei borghese Ecco ci siamo, l'elicottero è a perpendicolo sul via nazionale Lo spingi, lo spingi perché se no si rossa Ok Non c'è un po' faccio il telefono Non è che sta macchinetta sbaglia Ecco la prima macchina americana, tutta illuminata, si riconosce subito Vediamo se il cellulare funziona Probabilmente è questa Ecco qui, probabilmente Ecco le macchine Eccolo lì Obama Era lì, esatto, quello è l'auto Ecco, vedete lì i cecchini con il mitro in mano, vedete? Si è visto anche Quindi se qualcuno esce dalla trazena viene abbattuto direttamente Ecco qui ce ne saranno altri Ecco, vedete? Ecco qua Con un mitragliatore incredibile, guardate Siamo, ecco, sembra di stare qui Questo forse è quello per il reparto speciale Incredibile Sembra di stare in Afghanistan Attenzione alla transienna perché potrebbero prenderla male Ed ecco le macchine italiane che chiudono Quindi cerchiamo 3 minuti dei video tutte le macchine Abbiamo visto il presidente ci ha salutato Con la bandiera Ed ecco lì sopra il quirinale Mai visto una cosa simile Mai visto un sistema di sicurezza simile Neanche durante le manifestazioni Questa è la polizia Vediamo anche gente in borghese Se ne è parlato Americani e italiani Dovrebbe essere finito E abbiamo tutti Un'altra versione Curiosi Oh papà l'hai visto? Si è fatto così proprio Si si è salutato Si si è salutato Ecco Impressionante Dietro all'automobile Poi i cecchiti pronti C'è già carichi proprio Intoccabile C'è il rischio appunto Noi scherziamo Ma se uno supera questa transienna In quel momento Potrebbero sparare Sono autorizzati a sparare No qui finché non ci danno il via Non si esce Ed ecco qui il corteo Che sta per entrare al quirinale Sono le ore Pensate che stiamo a circa 500 metri dal quirinale Ed è tutto blocato No qui è tutto il botto It's all closed Yes Here they fire They shot They shot If you try to go They shot Where is Where have we gone? E' qui il quirinale Obama Il quirinale? Yes Napolitano Presidente Italian President That's just here Eh? Il quirinale è Yes Is there Ok si può andare Qui non passa nessuno Allora chiudiamo E' finita il passaggio Abbiamo avuto momenti di panico Stavano per arrestarmi Perché quando ci sono dei diritti Vanno difesi E alla fine Non è servito a nulla difenderli Comunque dietro la transienna Nonostante tutti i documenti in regola Non siamo potuti Neanche fare un metro oltre E questo è quanto Quindi Quello è il quirinale E quello di giù Possiamo fare almeno una regrazione Ecco qua E ok Ingenti misure di sicurezza E non è andato tutto